Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel solito post partita, in questo caso di Parma Milan Prima di iniziare volevo solo ricordarvi che le live reaction saranno sul canale Twitch Milan Inside Qua sotto in descrizione troverete il canale Twitch e qua sotto nell'info box comunque troverete tutti i nostri social Mi raccomando seguiteci ovunque perché a breve usciranno delle novità molto interessanti Comunque iniziamo senza perdere tempo, Parma Milan 1-3, vittoria di una importanza fondamentale, ovvio come ovvio Che sia visto che mancano tra virgolette poche partite, visto che comunque di mezzo nel cammino Champions League abbiamo ancora gli scontri diretti con le nostre concorrenti Juve, Atalanta e Lazio e quindi queste partite qua sono da vincere, sono da vincere però con il Milan che ho visto nel primo tempo Un Milan cattivo, un Milan sceso in campo per vincere, un Milan che non ha preso sotto gamba questo Parma che comunque è penultimo in classifica Ok ma non è così lontano dalla salvezza e che quindi deve dare il tutto per tutto per provare a portare a casa punti importanti Quindi un primo tempo devo dire veramente parere, ovviamente questi sono pareri personali ragazzi Commentate, comunque anche se sia se siete d'accordo sia non siete d'accordo Comunque parere personale, un primo tempo che mi è piaciuto molto a livello di mentalità nostra Ovvero che in fase difensiva il Parma non riusciva a creare nulla perché eravamo cattivi Andavamo su ogni pallone, non avevano tempo per respirare i giocatori del Parma In più anche in fase offensiva, quello che abbiamo creato comunque come abbiamo visto Ci hanno portato ai due gol iniziali Comunque azioni devo dire molto belle, combinazioni molto belle e anche molto organizzate a parer mio E poi il secondo tempo, secondo tempo il patatrack Nel senso che parere personale i ragazzi sono scesi in campo Come a fine primo tempo però magari con l'idea un po' più di gestire questo Parma Visto che hanno visto che riuscivano a farlo in maniera molto tranquilla Il problema poi cosa è successo? Espulsione di Ibrahimovic Io ragazzi sto registrando questo video finita la partita Sono andato a cercarmi al volo qualcosa Non ho trovato nulla Espulsione di Ibrahimovic che tuttora, ripeto, per me è un mistero Ho visto solo calcio di punizione a metà campo per noi Maresca era vicino alla palla Ibrahimovic invece era verso l'area del Parma Maresca alza lo sguardo Va da Ibra, cartellino rosso Io devo dire, è stato riferito qualcosa sicuramente da parte di Ibrahimovic Però tuttora non so cosa Quindi vi chiedo scusa ma per il momento non sono riuscito a trovare informazioni E da lì ovviamente è partita la sofferenza Perché dopo tre minuti segna il Parma Un gol che non so quante colpe posso dare Anche perché l'unica magari che Anche lì Kier magari era un po' troppo staccato da Gagliolo Magari Pellè è riuscito a metterla in mezzo troppo facilmente Però comunque un gol che è nato ovviamente dall'entusiasmo del Parma Un gol magari un po' dalla nostra paura Un gol che può starci Un gol che può starci comunque con una squadra così Che deve appunto provare a recuperare in qualsiasi modo E successivamente poi abbiamo sofferto fino alla fine E negli ultimi due minuti di recupero Dalotta ha fatto partire il contropiede con tutto il Parma in avanti E Rafa Leao ha chiuso la partita con questo 3-1 Quindi punti super importanti Ora vorrei passare con voi a vedere le pagelle Pagelle ovviamente fatte dalla redazione di Milan Inside Gli ho dato un'occhiata Sono particolarmente d'accordo con questi voti Adesso andrò a commentarveli Ovviamente queste sono mie valutazioni Aspetto anche le vostre nei commenti Allora Donnarumma 6,5 Gigio 6,5 sul gol non ha colpe a parere mio E in più comunque ci aveva già salvato con un doppio intervento Molto difficile e molto bello Comunque bravo Gigio Non mantiene Cioè sempre sicuro Dà sempre sicurezza Ovviamente come sappiamo tutti noi tifosi milanisti Ogni tanto ha dei momenti No Che come tutti del resto Però in generale comunque mostra sempre tanta sicurezza e tanta forza Calulu 6 Primo tempo Calulu è stato quello che Era forse lui insieme a Ibraimovic che nel primo tempo Ibra a parte l'assist Poi ci arriveremo a parte l'assist Sono quelli che magari Han fatto Qualche errorino in più ma non grosso Nel senso Calulu alla fine qualche passaggino l'ha sbagliato Ok Quindi Però il 6 poi nel secondo tempo comunque Fasi difensiva finché non è uscito L'ha fatta bene Comunque una sufficienza meritata Calulu Teo Hernandez 6 Teo Hernandez questa partita Poteva secondo me meritare un po' di più Aspettate Però quando c'è stata l'espulsione Teo ha fatto quelle due o tre cose da Sono in crisi Nel senso L'intervento da dietro Sulla fascia Verso la fine Quando su Mann Sul giocatore numero 98 del Parma Quella è una cosa che non capisco come tu faccia intervenire In quel modo lì Anche perché siamo già con un espulso Sappiamo che Maresca È un po' un protagonista secondo me E quindi L'ha rischiata tanto E quindi Non lo so Comunque non è ancora il solito Teo Quello che prende parte e non lo becchi più Ok Ha fatto delle Delle ottime giocate Anche perché l'assist Dice sì È stato un bel assist Ok Però gli manca ancora quel qualcosa Per tornare quel Teo Sono tutti pareri personalissimi ragazzi Accetto le critiche E tutto quello E i vostri pensieri Quindi 6 secondo me meritato Tomori 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 come al solito È una roccia È una roccia in difesa Ti amministra tutta la difesa benissimo Cioè sono sempre le solite cose da dire su Tomori Ma fondamentalmente ragazzi Un difensore centrale che ti dà una sicurezza del genere Che ti fa determinati interventi Cioè sono Sono in questo momento qua Sono difficili da trovare a parer mio Tomori è uno che sta spiccando veramente tanto bene Quindi super super Tomori come al solito Kier anche lui bene L'unica cosa appunto sul gol Magari era un attimo staccato su Gagliolo Ma lì c'è ragazzi È un'azione un po' particolare Quindi non poteva farci neanche Chissà cosa Che è Kier Ecco Però comunque anche lui solito Da sicurezza Nessun problema Veramente 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 top Anche Kier Ben Nasser Ben Nasser La coppiata Ben Nasser Che sì ragazzi Ci è mancata Finalmente è tornata E Ben Nasser Comunque si dimostra Il solito Ben Nasser Veramente Un ottimo centrocampista Ottimo a smistare i palloni Ottimo anche in fase difensiva È il solito È il solito Ben Nasser Ora è tornato Si è rieintegrato bene Comunque nel gioco E sono super felice Sono super felice Passiamo a Kessi Kessi ragazzi Dimostra Ogni giornata Dimostra di essere sempre Sempre lì Tra i migliori Una diga in mezzo al campo Oggi ha trovato pure il gol su azione Con una bellissima punta Da calcetto Stile calcetto Sul primo palo Però intelligente Perché tante volte Lì i giocatori Preferiscono tirare Di potenza Occhi chiusi E calciano Addosso al portiere Kessi qua Intelligentissimo Puntata E via Devo anche ammettere Che sto notando Kessi È molto di più In fase offensiva Nelle ultime partite Questa cosa mi piace tanto Mi piace tanto Non parliamo della fase difensiva Perché ovviamente È un falegname È veramente Nel senso positivo Nel senso positivo Che lui in mezzo al campo Falegna Tu da lì Non passi Se c'è lui Quindi Sempre la solita Supremazia Di che sia A parer mio In mezzo al campo Sali Makers Sei e mezzo Tornato al suo ruolo Esterno alto Mi è piaciuto tanto Perché In fascia È stato Molto Questa partita qua Soprattutto È stato Molto Come dire Non era mai scontato Ok Faceva prima una cosa L'azione dopo Faceva un'altra Quindi metteva veramente In difficoltà I giocatori Che lo marcavano In quella zona di campo E si è anche visto Dati i due cartellini gialli Che Hanno subito I giocatori del Parma Facendo due volte Fallo su di lui Perché una volta Si è allungato la palla Per andare sul fondo E l'han tirato giù La volta dopo È rientrato col tacco Ed l'han tirato giù Comunque per me È stata una partita Molto intelligente Da parte di Sali Makers E qua si sono viste Anche le qualità che ha E a me piace molto Sali Makers Devo ammetterlo Cialanoglu Cinque e mezzo Allora Ciala cinque e mezzo Perché Si vede È lì ma Non incide Non incide E tu da lì Dietro le punte Devi incidere O con un assist O comunque fornire Sempre quei passaggi Che possono creare L'occasione Quindi Ragazzi Cialanoglu Appena avuto il covid Non è più lo stesso Cioè dopo scusate Dopo che è tornato Dal covid Non è più lo stesso Quindi Gli manca sempre quel Quel qualcosa in più Comunque è una prestazione Diciamo Non sufficiente Però è lì È lì È quasi sufficiente Però manca quel qualcosina Rebic 7 Rebic Non dico che è stata Una partita ai livelli Di Roma Milan Perché quella partita lì Rebic Ragazzi è stato Fulminante Però oggi Ha giocato veramente bene Allora il gol Ha fatto un gran bel gol Perché comunque Con quella finta di corpo Si è smarcato Da due difensori E poi l'ha piazzata Sotto il 7 Dopodiché Comunque Le solite combinazioni Teo Rebic Si proponeva tantissimo In profondità Provava comunque A creare occasioni Cioè la volontà I passaggi giusti I tagli Gli inserimenti Ha fatto tutto giusto Rebic A parere mio In questa partita Se avete qualcosa In contrario Comunque commentate Qua sotto Che mi farebbe Veramente piacere Leggere i commenti Da parte vostra Infine Per i titolari Zlatan Ibrahimović 4 e mezzo Un 4 e mezzo Che condivido Purtroppo Perché oltre All'assist Non ha fatto nulla Se non magari Magari uno stop in aria Che magari stava per creare Qualche buona occasione Ma non Più di tanto Ha sbagliato tante cose semplici Tanti passaggi Tanti appoggini stupidi E poi Qua c'è da vedere La sua espulsione Però Espulsione così È perché Ha detto un qualcosa Che non doveva dire Quindi Lì Stiamo vincendo 2 a 0 Punizione per noi In mezzo al campo Non vedo la motivazione Per la quale Tu debba essere espulso Diretto Se non Una frase troppo azzardata Un insulto A un arbitro Al quarto uomo All'arbitro Non lo so Però comunque Anche l'atteggiamento È sbagliatissimo Cioè Vinciando 2 a 0 Te cosa vai a dire Non si sa Adesso vedremo Le notizie che usciranno Però È un 4 e mezzo Perché ha rischiato Veramente tanto Di compromettere la partita E Se per caso Il Parma Avesse pareggiato La partita Ragazzi Non so Come Cosa sarebbe successo Perché sarebbe Stato veramente grave I panchinari Che sono entrati Invece Krunic 6 Ottimo Entrato bene Cattivo Mordeva le caviglie Tutte le palle di davanti Provava a prenderle Non ne mollava mezza Bravo Krunic Meite 5 e mezzo Perché qualche passaggino È stato un po' troppo Leggero A parer mio Ha provato delle cose Un po' troppo complicate Verso la fine Tipo lanciare Dalot Piuttosto che Spazzarla lontano Con la palla Ha provato Delle cose fini Che sul 2 a 1 Con 1 in meno A poco dalla fine Non so Se avrei rischiato Però nel complesso Anche lì 5 e mezzo Per questo La fine ha fatto Benino anche lui Nulla da dire Leao 6 Perché Ha fatto gol Non saprei cosa dire Perché Non si può Dargli di più Solo perché Ha fatto gol Nel senso Ok bravo Ha chiuso la partita Ottimo Però Ha fatto il compitino Alla fine Per me Quindi È stato lucido Freddo Trovarsi lì A correre in parte A Dalot Però ripeto È il suo ruolo È quello che Pioli l'ha messo dentro Per tenere la palla su Fondamentalmente Quindi Per me Ha fatto il compito È stato bravo Gabbia Senza voto Non ha toccato palla Fondamentalmente Ah qua ci sono due Meite Tra l'altro Scusate Ci sono due Meite Nella grafica Me ne sono accorta Adesso Pioli Invece 6 Allora L'unico cambio Che a me ha spaventato Tanto di Pioli È stato il cambio Calulu Per Gabbia Mi ha spaventato Veramente tanto Perché pensavo Che Fondamentalmente Gabbia Bucasse E prendessimo gol Però invece Non è andato malissimo Quindi Devo dire Cambi giusti Nulla di che Ovviamente Però cambi giusti Alla fine Mi ero preoccupato All'inizio Perché ho detto Adesso si schiaccia troppo Adesso Cambio Gabbia Calulu Non lo so E quindi ragazzi Per me va bene così È un 6 È un 6 pieno Per il mister E niente ragazzi Queste sono state Le pagelle Io Vi ricordo Sempre Che sarò Il live su Twitch Per le live reaction Del Milan Quindi vi invito Ad esserci Che siamo Iniziamo a essere In un po' Ed è molto divertente Commentare le partite Insieme a voi Vi ricordo Che se avete Qualsiasi tipo di commento Di scriverlo Qua sotto In descrizione Mi raccomando Che poi Ovviamente Vi risponderemo Io vi invito A lasciare Un mi piace Al video Ad iscrivervi E noi ci becchiamo Al prossimo video Alla prossima partita E niente ragazzi Sempre Forza Milan E ciao a tutti